Formazione, tecnologia e sostenibilità sono state le protagoniste della prima edizione del Festival Universitario che si è svolto presso il Talent Garden di Milano, un'iniziativa organizzata da University Network che coinvolge oltre un milione di studenti e 35 università italiane. Sul Main Stage e nella Workshop Room si sono susseguiti speech, workshop e incontri interattivi condotti da personalità del mondo dell'imprenditoria, giornalismo, tecnologia, finanza, sport, social media e intrattenimento. Emma Loconte, coordinatrice editoriale University Network. Il Festival nasce principalmente da due esigenze, la prima è quella di formare i giovani per la carriera lavorativa e il secondo è quello anche un po' ovvio e giusto, quello di far divertire i giovani durante i loro anni universitari. Quindi in una giornata abbiamo cercato appunto di mettere insieme queste due sfaccettature degli universitari, da un lato tantissimi stand di tantissime aziende che fanno vedere com'è la vita aziendale, quali sono le posizioni lavorative al loro interno e appunto si mostrano come aziende che cercano i giovani. Quindi cerchiamo un po' di rompere gli stemi, non sono più i giovani che cercano le aziende ma viceversa e dall'altra parte abbiamo anche una fase di divertimento, di musica, di ospiti che vanno anche al di là dell'accademico e quindi un evento che cerca di racchiudere tutto e per tutto l'universitario e la sua natura.